Un convegno sulla giustizia in Italia abbinato alla presentazione del libro dell'onorevole Borea La giustizia in Italia, segreti, delitti e misteri si è tenuta nella sala conferenza della Certosa di Padula alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose ma vediamo come è andata nelle interviste realizzate al margine dell'incontro. In effetti la giustizia in Italia è raccontata dalle storie che si vivono nelle aule giudiziarie in 40 anni di attività professionale c'è stata l'idea di mettere per iscritto in un libro 40 processi di vita giudiziaria vissuta tra luci ed ombre come dice il presidente Mazzella nella prefazione al libro In realtà ci sono molte pagine che si ascrivono alla serietà di tanti magistrati e molte altre che purtroppo soffrono della superficialità di alcuni altri e questa è un po' la storia della giustizia in Italia che meriterebbe di essere maggiormente oggetto di attenzione da parte degli addetti ai lavori, avvocati e magistrati. Noi siamo aperti come amministrazione, siamo aperti un poco a tutti coloro i quali vogliono realizzare incontri, convegni su diverse tematiche naturalmente questa sera è un convegno ad altissimo livello con presidente di corte d'appello, di potenza, di lecce, del tribunale di Lago Negri quindi come amministrazione comunale non potevamo dire sicuramente di no perché praticamente rientra in quel percorso promozionale che noi stiamo cercando di fare sulla Certosa, sul centro storico di Padula questo è il nostro compito e questo stiamo cercando di fare siamo in crescita e dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione perché poi c'è il periodo estivo dove abbiamo delle forti presenze ma poi c'è il periodo autunnale ed invernale che ci dobbiamo attrezzare ben vengono i turisti ma ben vengono anche queste proposte che noi accogliamo favorevolmente e con vero piacere quindi ringrazio tutti gli intervenuti che sono ad altissimo livello con la speranza che tornando nei loro territori ci possano fare un poco di pubblicità è un libro affascinante, è la storia professionale del senatore e avvocato Borea ma soprattutto attraversa un po' la storia d'Italia la storia non solo dei grandi personaggi che lui ha avuto la possibilità di assistere politici, sindaci, anche vescovi ma è anche la storia degli umili è la storia anche delle persone che meno vengono tutelate nei processi come le parti civili si capisce nell'afflato dell'avvocato e senatore Borea nel difendere quindi in questo impegno di non subire passivamente la giustizia o le indagini ma di collaborare nell'interesse della verità nel fare delle indagini difensive che poi hanno portato i risultati che hanno portato ai suoi assistiti